oggi una ricetta fresca veloce andiamo a riutilizzare e recuperare le bucce del cetriolo andiamo a fare delle alici marinate con un gazpacho verde prima cosa che vado a fare faccio marinare le alici ovviamente dovendole mangiare crude si parla di alici abbattute vado a prendere una bowl aggiungo sale e zucchero un paio di quantità prendiamo una placchetta vado a fare un primo strato di sale e zucchero posiziono gli alici e copro ancora un sale zucchero queste lasciamo marinare per circa un quarto d'ora dopodiché andiamo a sciacquare in acqua ora prepariamo il gazpacho quindi in un frullatore andiamo a mettere le bucce del cetriolo del peperone verde dello spinacino fresco della menta dell'avocado e del cipollotto aggiungiamo del succo di lime a questo punto aggiungiamo del sale e vado a frullare con dell'olio di semi a questo punto vado a mettere la salsa in un biberon sciacco le alici e procedo con l'impiattamento le alici le abbiamo marinate andiamo a posizionarle sul piatto ora andiamo a mettere il gazpacho in mezzo alle alici aggiungiamo delle foglie di spinacino e andiamo a chiudere con del peperoncino dei fiocchi di sale e dell'olio al cipollotto ed ecco qui veloce fresco sicuramente assaporito provateci alla prossima e un appetito